La regione è siciliana da una parte, la banca locale dall'altra, tutti a sostegno dell'economia di Licata. Dopo l'annuncio dei 30 milioni di euro stanziati dal governo Crocetta, anche la banca Sant'Angelo, l'istituto bancario nato più di 100 anni fa a Licata, viene in aiuto dei privati e delle aziende con sospensione delle rate di mutuo. Lo ha annunciato la direttrice generale Ines Curella. Dopo il violento nubifragio che ha colpito la città di Licata nei giorni scorsi, la Banca Popolare Sant'Angelo ha deciso, come misura urgente a sostegno della popolazione, di concedere la sospensione per un periodo massimo di 18 mesi, spiega la dottoressa Curella, del pagamento delle rate dei mutui per privati e aziende che ne faranno richiesta. Inoltre, per i privati, la banca Sant'Angelo ha previsto anche la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per far fronte ai danni causati dal nubifragio. Le aziende, invece, potranno accedere ad un finanziamento con un periodo di preammortamento fino ad un massimo di 12 mesi destinato al ripristino dei locali e delle scorte di magazzino. Gli interventi di sospensione rate o di concessione di finanziamento verranno eseguiti in collaborazione con gli uffici comunali abilitati all'accertamento dei danni. In questo modo, la banca, sottolinea la direttrice generale, intende stare al fianco delle famiglie e delle imprese di Licata colpite dall'evento meteorologico che si è verificato nei giorni scorsi, così come è stato fatto in occasione della tromba d'aria dell'anno scorso. Ed a proposito di ristoro dei danni per la tromba d'aria del 10 ottobre 2015, la Regione ha ripartito i fondi per gli agricoltori danneggiati. In provincia di Grigento sono stati destinati un milione e mezzo di euro e la gran parte serviranno a risarcire gli imprenditori agricoli di Licata che hanno fatto registrare ingenti danni.